Da un rapporto del Tribunale del Malato emerge che i pazienti si affidano sempre di più spesso alla sanità privata. Ticket troppo cari e liste d'attesa interminabili. Ce ne parla Carlotta Mannu. L'ultima volta che mi servivano in ecografia dopo 8 mesi mi davano l'appuntamento. Avevano chiesto quanto di attesa? Mi pare 7 mesi, 8 mesi. Che cosa? Quale esame? Il cervello. Mi hanno chiesto più di un anno. Che si tratti di ginecologia o ortopedia, in media 6-7 mesi di attesa per esami e visite con punte eclatanti come nella provincia di Savona dove per le ecografie non sono più possibili le prenotazioni per l'intero 2013. Così le liste d'attesa diventano per il 74% dei pazienti il problema numero 1. Poi c'è l'aumento del ticket, arrivato a 36 euro circa con punte di 45 come in Calabria e 46 in Sardegna, cifre che oggi dirottono i cittadini verso il privato. L'aumento del ticket è successo che probabilmente si è ridotta un po' la domanda compensando quindi l'incremento delle entrate per le aziende. Ha funzionato? Ma io direi di no, che non può funzionare questa soluzione dell'incremento del ticket. So che ci sono certi esami che se tu paghi per impattamente spendi un po' meno rispetto al ticket che dovresti pagare. Ecco qualche esempio, glicemia 13,65 euro con ticket, 9 euro privatamente, esame per diagnosticare la gravidanza 24,90 con ticket, 22 in privato, elettrocardiogramma 22,55 in ospedale, 19 in privato e poi le ecografie 46,15 in ospedale mentre 50,60 in privato con attese dimezzate. Secondo il rapporto la fuga verso il privato sembra destinata a non fermarsi. Di quanto aumenterà il ticket da gennaio prossimo? Beh, diciamo andrà spalmato, 800 milioni di aumento di ticket nello scorso anno hanno portato più o meno l'incidenza sulle famiglie di circa 300-400 euro l'anno. Dobbiamo fare i calcoli cosa succederà quando si aumenterà di altri 2 miliardi. In Francia nuova azione dimostrativa di Greenpeace contro il nucleare evadendo tutte le misure di...